Noi abbiamo sempre detto, il solito ragionamento, che se scappi realmente da una guerra ti dobbiamo aiutare. Però la domanda principale che noi facciamo, noi andiamo a monte, qual è la politica sull'immigrazione che sta facendo questo governo? Punto di domanda, li accogliamo tutti? Allora è quella, guardi, è l'accoglienza, è questa roba qui che ci fa vedere adesso malabruzza. E allora non va bene, e allora non ci siamo, e allora non ci siamo, perché nel momento in cui la marina militare italiana, per accoglierli, va ad aiutarli in acque territoriali libiche, non andiamo in acque internazionali, noi siamo a pochi chilometri dalle coste libiche. Noi incentiviamo i trafficanti di esseri umani, perché, e lo continueremo a dire, nel momento in cui un trafficante di esseri umani sa che basta metterli su un gommone, su un gommone di quelli che vendono in cartoleria, tanto per intenderci che danno, che diamo a mio figlio, sono gommoni che rischiano di affondare da un momento all'altro. Si sgonfiano come un palloncino. Si sgonfiano infatti, e allora nel momento in cui un trafficante sa che basta metterli in mare e a poche centinaia di metri dalla costa ci siamo noi che li prendiamo. Fiano perché non si fa, perché non...